Io ho uno sfratto e la mia situazione è che sono anche invalida e non so neanche dove andare. Lavoro solo il mio compagno ma con i soldi non ci danno neanche una casa in affitto, giro per le agenzie e non ci danno neanche perché dicono che ci vuole due stipendi. È per situazioni come questa che stamane cittadini e membri del fronte della gioventù comunista hanno organizzato un presidio davanti a Villa Querini a Mestre, sede degli uffici dell'assessorato alle politiche sociali. Politiche sociali che nel comune di Venezia sono estremamente carenti e non stanno minimamente facendo fronte a quella che è la crisi economica accelerata dalla crisi pandemica. Una delegazione è stata ricevuta da due referenti incaricati di riportare le richieste all'assessore Venturini. Un tavolo che purtroppo non è andato come doveva andare. Siamo stati bellamente presi in giro per i fondelli da parte del comune di Venezia e da parte dell'assessore Venturini che ha deciso di disertare il tavolo nonostante fosse stato avvisato della nostra volontà di voler avere un incontro con lui. Questo tavolo è stato un tavolo che comunque ci ha dato la possibilità di confrontarci con dei tecnici. Noi quello che vogliamo non è un confronto con i tecnici perché il confronto con i tecnici l'abbiamo avuto già molte volte in passato anche durante gli spratti stessi. Noi vogliamo un confronto politico con l'assessore perché qui se le cose vanno cambiate e bisogna dargli una nuova impostazione, una nuova progettualità, sta alla politica farlo. Contattato l'assessore ha evidenziato come queste richieste andrebbero rivolte al governo ma i manifestanti non sono pienamente d'accordo. Noi le domande le abbiamo poste anche al governo, le porremo anche alla regione ma siamo anche stanchi di questo continuo scarico di responsabilità da parte delle istituzioni locali e anche delle aziende locali perché per quanto riguarda gli sfratti ad esempio il comune dice che è colpa di ATER, ATER dice che è colpa del comune e poi invece è colpa della regione. A noi di tutti questi giri tecnici non interessa assolutamente nulla quello che importa è la volontà politica che manca assolutamente è la volontà di dare ai cittadini e ai lavoratori di questa città le cose di cui hanno bisogno, ossia mangiare, pagare le bollette e una casa, un tetto sotto cui vivere con la propria famiglia. Venturini può anche dire che dobbiamo chiedere al governo ripeto, noi glielo chiediamo ma deve rispondere anche lui, deve rispondere anche il comune. Noi non mogliamo oggi la lotta ma continueremo con presidi, continueremo con mobilizzazioni, continueremo col fare informazioni a livello cittadino a livello cittadino